Filippo Pusin, quello che i cittadini vogliono sapere in questo momento è se dovranno pagare l'IMU oppure no. Il Governo che cosa ha intenzione di fare? Ecco, questa è un'incertezza assoluta in cui il Governo lascia non solo i cittadini che devono pagare, ma anche i comuni che devono fare il bilancio dei loro municipi. Infatti i comuni devono fare il bilancio di previsione del 2013 a novembre di quest'anno, entro novembre, quindi una cosa assolutamente assurda, proprio per l'incertezza in cui il Governo lascia i comuni e i cittadini. Questa è una cosa che noi denunciamo, una cosa gravissima e dimostra tutto l'affanno che ha questo Governo che è incapace assolutamente di fare delle riforme, di riscrivere i tributi municipali come aveva promesso a maggio, quando aveva sospeso la prima rata. Oltretutto a dicembre scade il 16 il versamento della seconda rata e di questo non si sa ancora nulla, non si sa se sarà eliminata, se sarà mantenuta e se sarà eliminata con come sarà finanziata, visto che il Governo ha dimostrato delle gravissime difficoltà nel trovare le fonti di finanziamento, visto che non si risolve a tagliare gli sprechi. La Lega Nord invece chiede l'abolizione? Noi ovviamente, visto i livelli di tassazione assurda a cui sono sottoposti i cittadini e imprese, chiede l'abolizione di qualsiasi imposta, la riduzione di qualsiasi imposta ovviamente, perché sono troppo alte. Certo non va fatta in questo modo, cioè gravando i cittadini di ulteriori imposte, cioè togliendone una per rimetterne altre due a copertura, è un gioco a somma zero per i cittadini che assolutamente non ci soddisfa. L'eliminazione dell'Imu va fatta tagliando gli sprechi, come abbiamo indicato molto nettamente e molto chiaramente con gli otto decreti sul federalismo fiscale, l'introduzione dei fabbisogni e dei costi standard.